Un altro post gossiparo, Zain Malik e Gigi Hadid si sono lasciati, so che questa notizia vi sconvolgerà, ha sconvolto un po' tutti, anche il sottoscritto, ma succede, l'amore finisce purtroppo. La notizia è appena stata riportata dal The Sun, che in buona sostanza ha sottolineato quanto i due si sanno allontanati nel corso degli ultimi mesi, Zain Malik in particolare è stato impegnato con la registrazione del suo nuovo disco che uscirà a breve, spero il più breve tempo possibile. I due si sono allontanati, si vogliono ancora un sacco di bene, condividono ancora un sacco di cose, non sono assolutamente estrani l'uno dall'altra, ma semplicemente a quanto sembra non si amano più. Questo appunto è il gossip riportato dal The Sun che è entrato in contatto con un rappresentante, un ufficiale, un portavoce della coppia che comunque ha voluto rimanere anonimo, che ha confermato la notizia. Nel frattempo a buttare carne sul fuoco c'è uno dei post, anzi un post in particolare di Zain, nel quale dice se la vita ti tira dei limoni, prendeli in modo che non ti colpiscono la cazzo di faccia, quindi probabilmente è stato un modo per spiegare in maniera piuttosto sibillina la fine di questa storia. In pochi forse se lo sarebbero aspettati molti, forse io compreso ci saremmo aspettati un, chi lo sa, magari anche un matrimonio, ma appunto così non sarà. Forse anche tutte le varie poesie che Zain Malik ha condiviso negli ultimi tempi avrebbero potuto farci pensare a questa possibilità, perché appunto è una delle poesie molto intense, molto profonde, e tendenzialmente quando sei malinconico e triste, soprattutto se sei un grande artista come Zain Malik, ti viene l'ispirazione per scrivere questo tipo di temi. Chissà se i problemi coniugali di coppia di Zain Malik e G.A.D. entreranno nel nuovo disco di Zain, io spero di sì, non tanto perché gli augurassi che si separassero, che finissero la loro storia, quanto piuttosto perché tendenzialmente, lo sappiamo tutti, e ce lo insegnano tantissimi artisti, ad Elle in prima linea, alla fine di una storia fra due artisti, comporta sempre un po' di ispirazione musicale in più. Voi fatemi sapere cosa ne pensate di questa notizia, se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile, iscrivetevi al mio canale e seguitemi sulle mie pagine social che sono Ziumoro Reloaded su Facebook e Ziumoro su Twitter e su Instagram, e direi che ci vediamo alla prossima notizia, spero una recensione o magari un gossip, chi lo può sapere. Alla prossima, ciao, 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 ciao.